Se supporta creator stef2317 tu non fai, al mare quest'anno non andrai Benvenuti in questa nuova challenge, quest'oggi facciamo una roba molto semplice Scendiamo all'agenzia e io posso usare soltanto la Thompson mitica, fine È l'unica cosa che posso avere nell'inventario, perché faccio la solo un'arma mitica challenge Non l'abbiamo già fatta Però con la Thompson no Mi sembra che ci sia troppo silenzio ragazzi, cosa sta succedendo? Io sto parlando con le moto Cioè siamo carichi qua? No, ma io aspetta stef, io sto meditando Abbastanza, guardami Dieci Dieci Aspetta, aspetta Sette Però uno e sette si assomigliano, dai Andiamo raga, go, go, go Raga, non so quanta gente c'è Moriremo tutti Allora io che sono bella passo I ragazzi Faccio tutta la lobby Di giocatori Moriremo Alla riscossa Addio raga, ha preso l'arma prima di me Bravo Addio Fere Giacchetto Non sento niente raga, c'è troppa gente E' sentito l'headshot Ragazzi ho trovato una cassa leggendaria Bravo Ci stava dietro la pistola viola tranquilla Esatto Raga ma io sono morta per sempre, non riuscirete mai a prendere la mia card Arrivo io, arrivo io Con calma però Vabbè ma non ce la fai, c'è troppo casino Come non detto, ho trovato lo scarico Arriva Marci Ok grazie Eh raga c'è un 4 team Ve l'ho detto Infatti era per dire Non era per dire Prendetela Ma non ce la farete mai Eh raga ma quanta gente c'è Marco però non da Mida Raga Io ho un colpo No Marco Ditemi come facevo io Vabbè quanta gente devo salvare oggi No Stef Ho ucciso Mida in realtà Io ho ripreso chi? Fere? Sì Ero io lì Io sono in basso in basso Stef nelle foglie Arriva raga Dai Stef Una ad uno Ci muori pure tu Una ad uno Non ce la fai Per rinascita Per un motivo Dai campione Hai sentito bro Stef è impattito Quanta gente c'è ancora? Tipo Quanto 5 team Lì chi è? Ah no Quello per restare Mannaggia Sotto Io sono sotto Sotto Devo andare C'è Marco qui in zona Tu basta che dove vedi Marco Scavi sotto Ok Sotto qua Scava sotto Poi gente Furca Dietro sta Sei pieno Sì Non riesce a prenderlo Invece Via 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 Bello Steppo Credibile Non ho mazzo Ti devi curare Fuori Peccato Bello 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 È pieno Di gente Voi Vi vedete Ridere Perché non saprete Un popo blu Di ferie No raga Basta col blu È bannato Dai Ho sentito male Ci sono Ci sono Allora Ho fatto un atterraggio Pessimo per me Vicino a Mark Vieni qua Vieni qua Avete delle cure Ho uno scendone Finite qua Ho chiuso uno Ragazzi Sparano Non so se una guardia Che cosa è Se una guardia Guardia sicuro Io avrei bisogno Anche delle bende Va bene tutto Niente Sta solo Granata Grande No raga Mi ha fatto uno Raga C'è troppa gente È impossibile Nessili due E arriva l'altro Mi hanno disintegrato L'universo A terra Un altro Ok Ok Granata La granata blu Allora Allora C'è uno qua Mi sono spaventato Anche a me Anche lui G4 Io me ne vado Ragazzi Gli tiro granata Sto qua Brava Una cosa bella La mia Schettina Non so dove Non l'ho preso Aiuto È spaventato Tutto Aiuto Raga Aiuto Troppo Ragali Alla Raga Spara La scala Bravissimi Raga Aiuto Dietro Uno Mi camper Bisogna Di colpi Raga Ho bisogno Di aiuto Perché Mi I nostri costruzioni Ma cosa sta succedendo Disastro Stati La carta di marci Non so come mi chiamo Lo giuro E' che io Come ti chiami auto blu Basta Marco blu si chiama Raga player Non so come mi chiamo Te lo giuro Vuole andare a restare Secondo me Steffo Hai colpito Il pompa Fere Non so Non ho niente Ma se c'è Il pompa Sì Raga Mi hanno sparato Non ho L'arrivo Aiuto Dele Steffo Arriva Raga Io c'ho 30 di vita Però porca miseria Non ho pure Hai mazzo Fere Ne cado Buttali Ma 30 30 Tieni Tutto Quello Che ho Va bene Perché tanto Devo Stasso Per Sei Sono qua E so Pramite Io ne ho 7 Totali Io ne ho 1 Mi sparo dall'alto Lo vedo È qua A terra Dietro Dietro Raga Non ce la faccio Non ce la faccio Cosa sta succedendo Non fa D'andare Ad agency E tu perché hai scelto Sto posto Io ho dato le armi Mi sono dimenticato Della challenge Eh bravo Ma se Perché la stazione Era questa Aspetta Da quando È basso Il tom Se ne ho usato Solo quello Credo No E buttò Tutto Dai Tutto Mannaggia Avete Bende No Mi sono fatto Io si raga Adesso ve lo do Un attimo Arrivo Non riprovarà Arrestare Marci Raga Secondo C'è Andiamo Andiamo Ok Fattate Che questo Mi serve Ma Ascolatemi Rentre Il bunker C'è Il bunker E andiamo Verino Deve andare su Marco Su E poi Non lo so Ma fai fare materiali No 20 Ragazzi Sono rimasti 27 player vivi E ce ne erano 56 qua E abbiamo fatti fuori 8 noi 9 minimo Io nelle Io 4 kg ragazzi Io 1 Auto blu Chi è stato colpito Io Perché ho fatto fuori La tipa Ok Mi sono incastrato Fai l'arma mitica No Sì Ok Perfetto I'm ready For di stale Bravo Bravo Buo ragazzi Non so cosa abbiamo fatto Ci sta capì nulla Ho iniziato che stavo ridendo Quindi non ci sta capì nulla Allora Un po' in giro Sopra c'era qualcosa Cosa c'è qua Io ho dei medikit Io se avete uno scudino O scendini O scendini Ok Due scendini a terra Ok Per le mie cittine Sì Però qualcuno mi ha rubato Le granate Vabbè Io No tranquillo Basta che qualcuno Ce li abbia Per le mie medikit Dovei tirare Sì Sì Anche se per poco Però è meglio Stare Steph colpi del pompa Sì Ti devi passare a tutti Tanto Io ne ho 4 Anch'io Anch'io raga Io ne ho 5 Io non ho colpi Ragazzi Noi possiamo prendere Quello che vogliamo Ricordami Ok Allora dammi colpi Piccoli anche Sessi Sì Sì Allora Io ho un colpo Del pompa caricato E se avete colpi Medi 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 Carma Che ho Quindi mi ritengo Il più possibile Sorri però Compagnita Raga Vieni qua da me Mi ho uno caricato Che un po' di mazzo Telecamera Via Vorrei più materiali E io Raga Ho sentito E io E io E io E io C'è lei l'auto blu No La Basta No Raga perché c'è partita sta roba E mi chiede È diventata un'altra meme Perché Ma proprio questa no raga Non no Ma è già una meme Cioè non possiamo rendere una nostra meme Un qualcosa che è già una meme Raga un player Dove Pingatto 100 metri Quello che nuota Sì Possiamo pusharlo a cattiglio Sì Raga io non ho niente Mi serve uno colpo Mi serve tutto Chi ha preso la mini Grande bella Io Ma sto sparando col pompa da lontano Mi sento un po' cattiva Oh Peccato Ma questa veramente pescavano da mezz'ora ragazzi Secondo voi Era un bot ragazzi Un bot che pescava C'è gente C'è gente che sta puntando Marco Dove mi puntano? Come si permettono? Dalla agente 23 23 Dove sono? Dove sono? Ah eccoli Ah eccoli Marci Mi ha beccato un altro Sei stato molto bravo Ferri dietro di te Ti sparano eh Dove? No raga da due lati Dovete venire da me Deve non scappare No Steph non riesco No non ce la fa Fere c'ha da altri dietro E ragazzi Vedi qui da me scappare via Non posso Perché sono incastrate C'è troppa gente che mi spara Vita che sono a 200 metri E dovevo prendere la città di Riccardo Io jumperei Alla destra Mi hanno distrutto tutto quello che avevo No raga raga no Mi hanno fatto la piramide Mi hanno ucciso Ma cosa stavo combinando? No ragazzi No ragazzi Non possiamo morire Usciti da agency No Siamo tutti contro di noia Tutti Tutti Sono arrabbiati Ma ragazzi Ma è stranissima sta cosa Quattro team di colpo Tre Tre Eh strano sì Elicottero Da destra e da sinistra Raga sarà passata un'auto blu Non è contatto di dietro No ci dobbiamo spostare dai agency Non puoi stare lì nelle vicinanze Ma per come hai detto scappa Fere Eh Steph stavo prendendo la card di Marci Ma poi ti sembra che un player mi deve fare la piramidina Sul cavolo di jump Cioè ma dove ti credi di essere in arena 8 miliardi di punti 8 miliardi per una piazzina E porca miseria Giocatela rilassato che sei normal Ahia Forza Ragazzi sono rimasti 13 player Cosa vi devo dire Io se posso Io se posso Non c'ho la poi fasta Però è una card Puoi restare almeno Marci Io ho la card di Marci Quella che ho preso io Ah vado a restarlo qua Ah almeno non sei solo dai Però non mi dispiaceva eh Questa solitudine No ma scusa Finisce la challenge da solo Steph Scusa No secondo me è too much Un po' too much Ma la cosa bella Sapete cosa è stata È che non c'era nessuno Poi di colpo Sì ma porca miseria Ma perché in cam Dieci secondi prima Ho fatto vedere il libro Ho sbagliato io E sono rinati No ragazzi Non è che sono rinati Sono rinati Sono corsi per venire a comprare il libro Hai ragione È colpa mia Però stai tanto su tutti l'amo Si ammazzano Sono rinati Per comprare il libro In descrizione Non c'è bisogno di correre Capito Anche perché non è ancora Nelle librerie È in preordine No per quello Come l'ho fatto vedere Sono impazziti per quello Link in descrizione Link in descrizione Vai Dai Ragazzi Non è due no Ma era questo il video Del non andare al mare O era quello di prima No forse era questo Non mi ricordo Non mi ricordo Non mi ricordo Non era questo Altrimenti dovrei dire qualcosa Su supporta create Quest'anno al po' Andiamo al mare No no Quello lì è già detto all'inizio Ok Ok Meno male Quindi quello l'ha fatta Almeno Marci Benvenuto dal mondo Grazie a tutti Ragazzi Un po' di cure Per favore È rinato Marci Tieni i decilini Oh thank you Non ho armi Però sai come Guarda tranquillo Vado a prendermi Un bel famas blu Che sicuramente vinciamo Raga siamo in nove Appunto Perché erano tutti lì Si stanno distruggendo Almeno rimangono pochi E potete vincere Sì Ma una cosa Facciamo una cosa Io uso solo l'arpione Va bene no No dai Marci Equipaggi Devi fare il massimo possibile È una situazione drammatica Otto player vivi Siamo noi due Steff Non era una buona idea Aiuto Ho avuto paura anche io Attomo muore così Si Pensavo di essere su GTA Io devo andare a lutar per forza Steff Comunque Steff è tutto blu In questo momento Guarda Marco anch'io sai Piccone Arpione Si ma proprio la skin Sto parlando Steff non state lontani però E fare Devo farmare anche lui Eh ho capito Però se arriva qualcuno Siamo morti a priori No non siete morti Sono tutti splittati Quindi ce la potete fare Bello come non ce n'è Secondo me c'è un team di pro In questo match C'è un team? Di pro Prosciutti Di prosciutti Di prosciutti Di prosciutti Quelli sono i più pericolosi Allora Tutututututu Non è qualcuno Arriva da metterlo Dico Ma andiamo a prenderci Gli airdrop Che stanno tutto giù Guarda arrivo Però prima mi faccio Ma tu sei lontanissimo Eh ve l'ho detto Ragazzi Non state separate Vabbè Almeno Almeno lo scindor Adesso Ok Ma perché Stendiamo lì Ci facciamo A trampolini Ti prendi armi leggendari Arrivo Partiti in aprisco Fruscolino Sì 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 Bella Da 250 match Spero che nessuno Sia dietro di me Spero che nessuno Sia dietro di me Cidenci Goodbye Malinconia Ma tu fai Marci Rispetto a Steph Porca miseria Steph Dove cavolo sei? Era per te Spari da Marci Era per te Sì vai No no Tu Steph sta lì Va bene No no Mi vicino Marci è morto Ma questi qua Sono di proprio Proprio Vero Quanti sono? C'è anche il meloncino Guarda li lasciano Steph Eh raga Spara Stai dietroggiando Spara con la Thompson A distanza Vattene Steph Sto punto Camper Raga Raga Io ve lo dico Questi qui Stanno trovando un botto Non sono Nel campo Centro yard Questi ragazzi Secondo me Stanno col Gatorade Da destra E col power Da sinistra E con gli occhiali Di quelle lenti gialle Vabbè Eppure quello con l'elicottero Mi hanno visto Vero Ma c'è un puntato C'è una fiera Raga C'è una fiera Sì c'ero io Raga Sono tornato in vita Non lo sapevo Campioni Viene la pompa Addio Raga Va bene Fa schifo Ma fa schifo Ma fa schifo Ma fa schifo Ma fa schifo È stato orribile È stato orribile Ma non è vero Non usare scuse Chi ti Si Chi ti Mi piace No Facciamo una canzone La dobbiamo vincere No ragazzi Non la facciamo La canzone di Marche Ci fermiamo Sotto come altri video Iscrivetevi al canale Campioni Ci vediamo Al prossimo video Ciao Ciao Ciao